32 minuti dopo le 9, rigorosamente in diretta anche in questo sabato mattina, questo è Just Today. Continuiamo a parlare di cinema, lo facciamo presentandovi questo evento. Dall'11 al 20 luglio si svolgerà la diciottesima edizione di Libero Cinema in Libera Terra, la più longeva rassegna di cinema itinerante promossa da Cinemobile Foundation e Libera. Un cartellone che vedrà protagoniste, sei opere prime di registe italiane, un viaggio della carovana che partirà da Messina l'11 luglio per chiudersi a Torino il 20 luglio. Noi siamo collegati via Skype con la cofondatrice, presidente di Cinemobile Foundation, Elisabetta Antonioni. Buongiorno Elisabetta, benvenuta. Buongiorno e grazie per questo invito e buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori. Allora, diciottesima edizione, siete diventati maggiorenni e appunto diciottesima edizione di Libero Cinema in Libera Terra e posso chiederti come nasce, è una domanda d'obbligo, come nasce questo festival e qual è il suo obiettivo? Dunque, il festival di Libero Cinema in Libera Terra è il risultato dell'esperienza di Cinemobile che nasce nel continente africano perché la nostra fondazione fondata da me e Nello Ferrieri ha operato fin dall'inizio nel continente africano per portare il cinema dove non c'era più, non c'era mai stato e collegare alle proiezioni pubbliche, quindi allo schermo messo nei villaggi, collegare delle campagne di comunicazione sociale. Il primo esperimento l'abbiamo fatto, la prima carovana di cinema itinerante è stata fatta in Mozambico nel 2001 e per quattro mesi abbiamo attraversato tutto il paese portando il cinema nei villaggi, montando lo schermo nei villaggi e collegando alla proiezione di cinema itinerante le campagne di comunicazione sociale sull'AIDS proiettando naturalmente i film del paese che ci ospitava. Dopo il Mozambico ci sono stati altri paesi africani in cui abbiamo operato come il Marocco, la Tunisia, l'Etiopia, il Senegal, la Costa d'Avorio. Tutti gli incontri, tutti i progetti di CineMove nascono dagli incontri. Nel 2006 abbiamo incontrato le prime cooperative di Libera Terra, l'impegno di Luigi Ciotti che seguivamo già da tempo. Quindi ci siamo resi conto che questa esperienza di cinema itinerante che nasce nel continente africano poteva essere utile anche nel nostro paese, perché stavano già chiudendo le sale cinematografiche e i presidi culturali diminuiscono sempre nel corso degli anni, così come la chiusura delle sale cinematografiche. Quindi da questo incontro nuovo con le cooperative di Libera Terra, con Libera di Luigi Ciotti, abbiamo deciso di portare il cinema itinerante nel nostro paese e di farlo sui beni confiscati alle mafie per sostenere l'impegno di tutte le realtà che lottano per il contrasto alle mafie e per la costruzione di un mondo più giusto. E quindi proiezioni sui beni confiscati, proiezioni nelle piazze, proiezioni nei quartieri, proiezioni nei centri sociali, con un cinema, con una scelta di titoli che ci permettono di instaurare una conversazione, una proiezione collettiva partecipata. Quindi dal 2006 ogni anno il furgone di Libero Cinema attraversa il nostro paese per portare il cinema e stimolare le coscienze, perché la cultura, come dice sempre Luigi Ciotti, la cultura ci aiuta a scegliere, ci aiuta a decidere da che parte stare. La cultura, la conoscenza sono strumenti indispensabili per la costruzione di una nuova umanità. E dobbiamo cominciare proprio dai momenti collettivi, come quelli di Libero Cinema, ma anche all'interno delle scuole, dove durante l'anno noi facciamo un progetto che si chiama Schermo in classe, sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura. Molto interessante quello che dici, Schermo in classe, appunto dedicato ai più giovani, perché questa diciottesima edizione cade in un momento particolare per il nostro paese, perché gli ultimi rapporti sulla povertà educativa convergono su un dato preoccupante. Oltre il 50% di ragazzi e ragazze in età scolare non è mai entrato in un cinema. Sì, infatti una delle cose di cui ci rendiamo conto ogni volta che svolgiamo un progetto nelle scuole, di questa difficoltà. Moltissimi ragazzi non hanno mai visto un film sul grande schermo, non sono mai andati a teatro, difficilmente sono andati a un museo. Qualche anno fa una proiezione ad Assisi, noi in genere iniziamo a proiettare sulle 9, 9 e mezza, quando fa buio, e c'era un gruppo di ragazzini e ragazzini che erano seduti lì dalle 8 e mezza. Io sono andato a dire, guardate, ci fa molto piacere, però dovete aspettare un po' di tempo prima della proiezione. E loro mi hanno risposto, a noi non ci importa. Noi non abbiamo mai visto un film sul grande schermo e non siamo mai andati al cinema. Ma lui questa sera è venuto da noi. Che meraviglia, che bello questo racconto, questo aneddoto che hai raccontato a questo proposito. Il concetto è proprio quello, se lo spettatore non va al cinema, è il cinema che arriva dallo spettatore. Siete voi che appunto portate il cinema agli spettatori. Voglio dare qualche numero. 18 anni, appunto, Cinemobile diventa maggiorenne, 228 tappe, 94 comuni raggiunti, 16 regioni attraversate, 170 film proiettati, oltre 157 mila chilometri percorsi, una comunità di oltre 100 mila persone, tra spettatrici e spettatori dal vivo e online, che davvero disegnano una mappa dell'Italia che vuole cultura, legalità e giustizia. Quest'anno si partirà da Messina all'11 luglio e arriverete a Torino il 20 luglio. Vuoi darci qualche anticipazione sul programma, che immagino sarà davvero ricco e denso di eventi e di appuntamenti? Dunque, per questa edizione abbiamo scelto di privilegiare la cinematografia allo sguardo femminile. Il contrasto alle mafie e corruzione passa dall'affermazione dei diritti universali. La parità di genere è una cosa dalla quale siamo ancora piuttosto lontani. Quindi anche per questo abbiamo fatto la scelta di vedere, raccontare le storie da un punto di vista femminile. Abbiamo sei opere prime, sei opere prime di registe italiane, Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire, Amanda di Carolina Cavalli, Nico di Susanna Nicchiarelli, Bella Ciao di Giulia Giapponesi, Il cerchio di Sofì Chiarello, ma a settembre della Giulia Stegwalter, ma a fianco di queste sei storie, abbiamo inserito altre visioni. Quindi cosa vedremo durante il Libero Cinema in Libera Terra? Vedremo anche quei lavori, lo dicevamo prima, Schermi in classe e i progetti del Ministero Visioni fuori luogo. Vedremo anche i lavori che sono stati prodotti dalle ragazze e dei ragazzi delle scuole di Caprarica, Maglie e Martignano che con noi hanno fatto un progetto durante quest'anno con i registi Davide Barletti e Claudia Mollese per raccontare il loro paesaggio, per raccontare il passaggio d'età e il paesaggio che è cambiato con la Xilella. Tutto questo lavoro che abbiamo fatto nelle scuole verrà restituito nella piazza di Caprarica il 15 e il 16 luglio. Altri corti che abbiamo inserito in questo programma riguardano il convitto Falcone, riguardano una storia che si svolge in Tunisia che si chiama Bobby. Quindi abbiamo una visione partendo da quello che è il tema del cinema, raccontare le storie. E noi cosa facciamo? Portiamo il cinema alle persone continuando a fare quello che il cinema fa da quando è nato, raccontare le storie, condividere le storie e crescere insieme costruendo degli spazi di democrazia. Anche emozionale. C'è un'altra cosa che voglio dire che abbiamo inserito quest'anno ed è la prima volta su questi schermi. Siccome ci siamo resi conto che la visione di un film in sala è un fatto generazionale, fa delle differenze, ci sono proprio degli approcci completamente diversi. Quindi chiediamo alle spettatrici e agli spettatori di venire da noi sotto lo schermo e raccontarci la loro prima volta. Perché vorremmo costruire un archivio emozionale che riguarda tutti i nostri ricordi della prima volta al cinema. Che bello! Quando appunto stavi raccontando questa cosa stavo pensando ma qual è stata la mia prima volta al cinema? Non riesco a ricordarlo, ma mi sforzerò e poi magari te lo scriverò tramite mail, Elisabetta. Grazie per essere stata con noi quest'oggi andando comunque su un qualsiasi motore di ricerca e digitando Cinemobile Foundation o Libero Cinema in Libera Terra è possibile appunto sapere di più di questa realtà e di tutto il programma. Ricordiamo che partirà l'11 luglio da Messina e si concluderà il 20 luglio a Torino e poi il 15 e il 16 luglio sarete a Caprarica nella nostra Puglia in Salento. Grazie Elisabetta Antonioni cofondatrice e presidente di Cinemobile Foundation per essere stata con noi. Vediamo se magari riusciremo a sentirci l'ultima settimana di luglio per fare un po' un bilancio di questa edizione se sei d'accordo. Ci farebbe molto piacere. Bene. Io vi ringrazio e ricordo il nostro sito Cinemobile.tv Ecco, Cinemobile.tv Perfetto, grazie, grazie tante a presto, buon lavoro e buon cinema a Elisabetta Antonioni e a tutta la squadra di Cinemobile Foundation. Noi ci fermiamo ancora qualche istante lì nella regia e poi insieme per la parte conclusiva del nostro appuntamento quotidiano in diretta.